Il Festival dei Due Parchi inaugura il nuovo sentiero Ecotrail di Montesanto Memorial Melania Rea. Siamo giunti a questa terz'ultima tappa per il 2015. Si tratta di una gara di corse in natura che si chiama Ecotrail di Montesanto e che poi abbiamo voluto dedicare a Melania Rea e quindi sarà un Memorial Melania Rea. Poi avremo altri due appuntamenti con il Festival che saranno la cerimonia di premiazione del concorso nazionale di poesia il 29 novembre ad Ascoli Piceno. Per chiudere di nuovo nei territori di Civitella del Tronto e quindi alle porte del Parco del Gran Sasso e Monti della Laga il 20 dicembre con la Maratonina Rosa dedicata alle donne. Percorsa su strada di 10 chilometri e mezzo. Appuntamento domenica 22 novembre a Villa Lempa. Durante la manifestazione l'amministrazione porrà una targa commemorativa nel Bosco delle Casermette. Per tracciare questi trail e questi percorsi ci siamo imbattuti in questa vegetazione diversa dalle solite conifere che sono in un parco. E ci siamo resi conto che in quel luogo era avvenuto l'evento della Melania Rea. La cosa ci ha toccato sensibilmente e quindi in quel punto l'emozione più grossa che abbiamo avuto è quella di riportare la vita in quel luogo. Quindi con il presidente del festival abbiamo scritto alla famiglia Rea che contenti hanno dato il benestare a questa manifestazione. Per chi vuole partecipare? Partenza dalla piazza del mercato di Villa Lempa. Ritrovo dalle ore 7.30, partenza alle 9.30. Il percorso che partirà appunto da Villa Lempa arriverà fino alle Casermette. proseguirà poi dalle Casermette fino alla frazione di Villa Passo, girerà intorno all'abbazia di Montesanto, in particolare al Colle, e poi ci sarà l'arrivo lì in piazza a Villa Lempa.